Cristina è una donna che ha affrontato tante difficoltà nella vita ma non ha mai perso la speranza. A 53 anni vive a Teramo e da 20 anni sulla sedia a rotelle e ora deve lottare contro un tumore al cervello inoperabile, scoperto poco più di un mese fa. Ma Cristina non si arrende e vuole realizzare i suoi sogni che ha con suo marito Roberto e le sue tre figlie, Vanessa, Daniele e Simona. Per questo la sua famiglia ha aperto una raccolta fondi e sabato 10 febbraio celebrerà il matrimonio a casa. Stiamo organizzando questo matrimonio per celebrare la cosa per noi più importante in questo momento, cioè l'amore di miei genitori, mamma e papà. Perché dopo il primo momento, dopo che abbiamo scoperto della sua malattia, dopo tutte le cose che abbiamo passato abbiamo detto basta aspettare e dobbiamo prendere tutto il bello che abbiamo. Quindi sabato ci sarà il matrimonio. Cristina è sposata civilmente con il marito Roberto ma sogna il matrimonio religioso. Per questo motivo la famiglia ha deciso di accelerare il tutto e realizzare il suo sogno. Sarebbe stato l'anno prossimo però poi quando ti capitano queste cose inizia a non perdere più tempo. Abbiamo organizzato tutto di fretta in furia, io con le mie sorelle e tutto l'aiuto delle persone che ci sta arrivando. Infatti siamo tanto tanto grati per questo. E quindi sì, abbiamo organizzato tutto per sabato per far venire un po' la chiesa in casa. Anche lì abbiamo trovato tanta tanta disponibilità. Avete messo anche in campo un'iniziativa per una raccolta fondi? Principalmente adesso per sostenere tutte le spese che poi andiamo incontro comunque a un momento dove mamma ha bisogno di essere curata dalla mattina fino alla sera in ogni giorno. E poi è stato principalmente un suo desiderio, un desiderio di mamma per prepararsi ad ogni evenienza e star tranquilla e serena anche e soprattutto per noi, per la sua famiglia che viene prima di tutto. Cristina e la sua famiglia vogliono raccontare la loro storia con il cuore perché è l'unico modo per affrontare il dolore. E' proprio quello il messaggio che vogliamo portare, un amore che va oltre tutto e sono contenta che le persone stanno accogliendo questo messaggio e ci sono vicine in questo perché la prima cosa che senti in queste situazioni è sentirsi solo e non sta accadendo per fortuna grazie a tutte queste persone. Come si può fare per aiutarvi? Condividere assolutamente perché anche un piccolo gesto, una piccola condivisione può aiutare a dare risonanza a questa raccolta fondi e chi può donare assolutamente ne siamo veramente grati.